Ciao a tutti ragazzi sono Luke e bentornati nel mio canale con questo nuovo video. Questo è un breve video in cui vi indicherò questo sito skidrogames.net che è un ottimo sito che io utilizzo spesso per scaricare giochi del computer ma ci sono anche versioni per console come Xbox 360 o Playstation 3. E' uscito giusto oggi la versione di Black Ops 2 infatti qui possiamo trovare la versione edizione limitata con anche Nuketown 2025 e è appena uscita da pochi secondi la crack infatti ho subito scaricato come vedete io sto scaricando tutti i file ci metterà molto tempo quindi penso che prima di 3 o 4 giorni non riuscirò a giocare e quindi niente volevo solo informarvi di questo per scaricare questo gioco io vi consiglio di usare otorrent schiacciando qui semplicemente e vi apparirà appunto otorrent in cui potete scaricare il file e sono circa 15 giga oppure potete usare jdownloader per scaricare tutti questi 17-16 file non mi ricordo che sono da circa 1 giga l'uno quindi ragazzi io ho finito vi ricordo di lasciare un bel mi piace e un commento ditemi cosa ne pensate su questo sito perchè ci sono davvero tanti giochi io sto anche scaricando Medal of Honor Warfighter ok ragazzi io vi saluto bella bella grazie a tutti